Ciao a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata di Belluno Calcio in Rete. Quest'oggi, nonostante sia mercoledì, ci siamo trovati al Polisportivo per il primo turno infrasettimanale di questo campionato. L'avversario di turno quest'oggi era il Fontana Freda e purtroppo è arrivato il terzo pareggio consecutivo, sempre con il risultato di 1-1. Io vi lascio quindi alle immagini che abbiamo raccolto e al gol del solito Simone Corbanese e le interviste post-gara. Presidente Persinotto, anche quest'anno l'Italienti Belluno promuove il sociale e tutte le sue attività. Vuoi fare due parole su questo progetto che si porta avanti da tre anni? Sì, un progetto a cui noi teniamo tantissimo. Vogliamo unire il marchio del calcio al sociale. Ringrazio e passerò adesso la parola all'amico Paolo Zaltrono che ne cura brillantemente la buona riuscita ormai da tre anni. Quindi per i dettagli passo a Paolo. Comunque siamo veramente felicissimi di ospitare a ogni partita qualche associazione no profit. Grazie. Il progetto consiste nel dare spazio, come negli altri anni anche quest'anno, a dare spazio a queste associazioni di volontariato presenti nel territorio della provincia di Belluno. Sono società che sono impegnate fortemente sul territorio provinciale, sul sociale, come l'Aido, come l'Avis e altre Asma. Abbiamo da Pollicino e altre. Oggi abbiamo l'associazione di disturbi specifici. Il progetto consiste in cosa? Quando il Belluno Calcio gioca in casa diamo uno spazio a queste associazioni per presentarsi, far comunicazione e dire chi sono, cosa fanno e dove sono. In modo che poi i vari spettatori e i vari cittadini e chi segue anche il mondo del calcio possa comunque, se vuole, partecipare ai siti internet o ai numeri che abbiamo dato di condivisione. I talenti Belluno, numero uno Solagna, due Longo, tre Mosca, quattro Vignatti, cinque Peddi Canò, sei Calcagnotto, sette Marignanto, otto Bertagno, nove Corbanese, dieci Acampola, undici Duravia. In posizione di mister Roberto Vecchiato, numero 12 Puglino, trevici Brancetto, quattordici Tomacaglia, quindici... I talenti Belluno nel primo turno infrasettimanale di campionato affronta il Fontana Fredda, diversi i cambi proposti da mister Vecchiato nell'undici di partenza. In avanti torna il trio Corbanese a campo Raffarinazzo, con Mignatti a metà campo e Longo in difesa. Al diciottesimo occasionissima per i talenti Belluno con Calcagnotto, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo stoppa di petto e calcia a vota sicura, ma il suo pallone è respinto dal portiere. Al ventottesimo ancora giallo a blu vicino alla rete. Acampola, perfettamente servito nello spazio da Mignatti, semina tutta la difesa. Il portiere ospite esce per sventare la minaccia, ma il pallone rimane pericolosamente in aria. Ancora Acampola si butta sulla sfera, ma il suo tiro viene respinto dal portiere. Al trentattresimo Mignatti dà il limite, palla alta sopra la traversa. Al quarantaquattresimo arriva il gol del Fontana Fredda. Calcagnotto tocca di mano in aria e l'arbitro decata il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Moras, che non sbaglia. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Fontana Fredda, in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo. Al cinquantaseesimo Marta Vettina subito pericoloso dopo il suo ingresso in campo e impegna sul primo paro il portiere ospite. Un minuto più tardi, Mosca di testa da pochi passi mette a lato sugli sviluppi di un corner. Al sessantottesimo Masoc fa da sponda per il Cobra, ma il tiro del capitano giallo-blu è troppo centrale. Al settantacinquesimo arriva il pareggio degli talenti Belluno. Corbanese scatta sul filo del fuorigioco e davanti al portiere non sbaglia. È il pareggio degli talenti Belluno. Dopo quattro minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. I talenti Belluno-Fontana Fredda 1-1. Domenica la trasferta contro il Levico Terme. Mister Vecchiato, terzo pareggio, terzo pareggio per 1-1. Tre tiri in porta in tre partite, tre gol subiti. Cosa sta succedendo alla tua squadra? Come detto te, subiamo pochi tiri in porta, di cui due su rigore. Anche oggi penso che abbiamo creato tanto a primo tempo, abbiamo avuto quattro occasioni nel giro di un quarto d'ora. Poi è chiaro che vai sotto, subito un po' il nervosismo. Adesso tutto sembra difficile e basta, deve passare. Da un punto di vista tecnico, che giudizio dai della partite odiana della tua squadra? Da un punto di vista tecnico non è buono. Poi abbiamo creato tanto a primo tempo dalla parte sinistra, perché abbiamo sviluppato bene. A secondo tempo abbiamo messo sicuramente più cattiveria, abbiamo fatto più mischie, ma meno occasioni limpide, anche perché loro indietreggiavano tanto. Però, ripeto, non hanno fatto un tele in porta loro. Dunque, sì, il gol nostro forse è fuorigioco, io non ho problemi a dirlo. Come c'era un rigore per noi, dopo i dieci minuti su Farinazzo, ci ha fatto fallo contro. Detto questo, pensiamo a noi a giocare meglio e a vincere le partite, cosa che adesso ci riesce difficile. Da un punto di vista difensivo, molto bene la tua squadra, non concediamo praticamente nulla agli avversari. Forse davanti soffriamo un po' di più, le occasioni come in città le sviluppiamo più che altro dagli esterni, con Mosca, soprattutto dalle fasce. Sì, basta crearle fondamentalmente. Dietro stiamo concedendo praticamente niente, perché anche oggi Solagna penso che non ha fatto una parata seria, mentre loro portiere ne ha fatte due o tre importanti, che poi le sviluppiamo centralmente o esternamente, dipende anche da contro chi giochi. Bisogna fare gol. Quindi in questo momento devi lavorare un po' più sulla fiducia dei ragazzi, perché comunque il gioco c'è e si è dimostrato in queste tre partite. Bisogna lavorare su tante cose, sul fatto che magari abbiamo aiutato tutti molto bene dal punto di vista del gioco e dei risultati e magari non accettiamo di avere delle difficoltà, ma bisogna accettarlo perché il calcio è questo, non è che si inventa nulla. Antonio Acampora, forse il più grande acquisto del direttore Fardini di quest'estate, il terzo pareggio quest'oggi, come hai visto la partita? Ma diciamo che il periodo non è dei migliori sicuramente. Veniamo da un momento non tanto facile, come oggi si è visto, siamo andati sotto. Secondo me più che altro dobbiamo ripartire dal secondo tempo di oggi, dove penso che li abbiamo messi là, li abbiamo chiusi. Niente, i tre punti faticano ad arrivare, bisogna continuare a lavorare così, testa bassa e niente. Dove possiamo migliorare secondo te e dove magari anche tu personalmente ti senti di poter dare qualcosa in più a questa squadra? Sicuramente posso dare di più, come vedete anche voi il momento è proprio complessivo, diciamo, dobbiamo essere lì più concentrati, con la testa, magari sbagliamo nei attaccanti, sbagliamo nei difensori e appunto bisogna ripartire da... migliorarci un po' tutti diciamo. Domenica Levico-Terme, una squadra che abbiamo battuto in amichevole, cosa ti aspetti dagli talenti Belluno? Sicuramente non sarà la stessa partita che abbiamo affrontato ad agosto, diciamo, il campionato è un'altra storia, abbiamo visto anche oggi, c'è a 3.000, niente, dobbiamo lavorare, dobbiamo già partire venerdì concentrati, sapendo che non sarà facile e cercare di portare a casa questi tre punti che ci mancano, diciamo. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Belluno Calcio in Rete, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana.